Buon proseguimento di serata su Rete4 con Max830, il nuovo elettrostimolatore ad impulsi sequenziali da TESMED. Schweppstonica, unica nella sua specie. Beh, lui si crede Rambo. Rambo è una polce. Lui è Tango, la potenza della legge. L'altro è Cash, la forza della giustizia. Mi conosci, eh? Sì, sei il secondo poliziotto di Los Angeles. Strano, ho sentito dire lo stesso di te. Quando lavorano insieme... Tango e Cash, Cash e Tango. Mi mandano fuori di me quei due poliziotti. Non c'è tempo per annoiarsi. Ma da chi ha imparato a guidare? Da Stevie Wonder! Kurt Russell. Silvestre Stallone. Tango e Cash. Mercoledì alle 21 su Rete4. Guarda! Ma no, lasciamola al mare. No! Da buitoni i pensierini. Piccoli piaceri ripieni come le stelline con ricotta e spinaci. Quando si mangia bene la vita ha un altro sapore. Acqua Fresh Extreme Clean. La schiuma microattiva aiuta a combattere le fonti dell'alito cattivo anche dalla lingua. Per una sensazione di freschizia e pulizia, che sentirai la differenza? Estrema sensazione di pulizia con Acqua Fresh Extreme Clean. Per denti e lingua. Da più di 15 anni creo abiti. E la seta è senza dubbio la mia stoffa preferita. Sulla pelle scorre fluida. È così preziosa. Oggi per te la seta si trasforma ogni giorno in una nuova morbida carezza. E tu ti senti fresca e protetta per tutta la giornata. Nuovo Davideodorante Silk Dry. Abbonati a calcio e cinema. Avrai un'estate di film gratis. Sky ti sopprende sempre. Nuova Citroen C4. Con assicurazione casco per un anno. Compresa nel prezzo. Nuova Citroen C4. Tecnologia viva. Gamma C4 a partire da 12.900 euro. Mi chiamo Mike e faccio il tassista. L'idea me l'ha data un capolavoro italiano. Con il mio puntino giallo arrivo sempre prima. Tutto il giorno su e giù per Manhattan. I clienti non mancano. Anzi, ormai vado di moda. Però non fatemi fare nomi. Ciao Mike. E poi offro il meglio. Mike, va piano, che paura. Quando finisco vengo qui a farmi una nastro. E se bevo prendo il taxi, ma quello di un'altra. Nostro azzurro. C'è più gusto a essere italiani. Osella presenta Linea. Formaggio fresco, ideale per tante ricette. Dal gusto leggero, morbido e saporito. Alle fattorie. Colleziona miniature d'epoca. Personaggi in porcellana tipici dell'ottocento inglese con mobili e vestiti esclusivi. Primo numero con personaggio e accessorio ad un prezzo eccezionale. Del Prado. Perdere peso? Si può. Dalla ricerca Medical Pharma è nato Forlip. L'integratore a base di principi naturali che attenua il senso di fame. Aiuta a ridurre l'assorbimento degli zuccheri. Aiuta a ridurre fino all'80% l'assorbimento dei grassi. Aiuta a perdere peso in modo semplice ed equilibrato. Con Forlip la vita è più leggera. Cerca Forlip in farmacia o informati all'817 69 52. Un pesto pronto? Ma questo è il gran pesto di Gullio Star. Vedrai che è successo. Scommettiamo? Scommettiamo. Allora? Sono vicenniante del mio pesto. Sì, è un pesto pronto. Bugiarda. Star, il tuo segreto in cucina. Per prevenire la formazione della placca dovresti lavarti i denti ad ogni occasione. Quando non puoi lavarti i denti, c'è Dagan Microtech con microparticelle pulenti ad azione prolungata e costante che riduce oltre il 90% di placca in più rispetto ad un chuniga normale per una sensazione di pulizia profonda e la sicurezza di un alito sempre fresco. Dagan Microtech. Denti più puliti controllo alito fresco. Ora dopo ora. Potenza e prestazioni in un diesel. E ancora di più. Nuovo Shelby Power Diesel. Con l'esclusiva tecnologia sintetica GTL libera la potenza del tuo motore. Shelby Power Diesel. Nuova razza diesel. Adriana! Adriana, ogni volta che la vedo sento la musica. Anch'io sento la musica. Ma sul telefonino... Sul telefonino? Insomma, entri nella music store, scarico la canzone e la sento quando voglio. Sì, e costa solo un euro. Ricapitolando. Ma è una cosa meravigliosa. È una grande immissione. Come l'aria condizionata. Ed ecco a voi, la stella del momento. La più bella. La più intrigante. Signore e signori, Novella 2000. Novella 2000. Ti diverte. Ti sorprende. Novella 2000. E le stelle stanno a guardare. Branca Menta. Brrrr. L'informo che sarà commesso un delitto nella chiesa di San Fiacro durante la prima messa del giorno dei morti. Non è vero quello che mi hanno detto. Non è stata una crisi cardiaca. Il medico conferma di sì. Permette che prenda in prestito il giornale parrocchiale? Sono gli stessi caratteri. Ma che cos'è questo scherzo? Non è uno scherzo. È un delitto. Magri e il caso San Fiacro. In Prima TV, sabato alle 21, su Rite 4. Per preparare una golosa marmellata bastano tre minuti di cottura. Con Cameo Frutta Pec. Si conclude questa sera il ciclo Giffoni Film Festival con il film Ali Bruciate. Vincitore del Giffoni d'Oro del 2001. Ed è la storia di un 17enne che dopo la morte della madre viene mandato in collegio. Coinvolto dalle nuove amicizie si troverà a compiere delle scelte sbagliate che lo porteranno a pensare al suo futuro. Vi segnalo inoltre che per la sua visione da parte dei bambini è consigliata la presenza dei genitori. Buon proseguimento. Beh, questo mi sembra perfetto per l'estate, ma non è che mi ingrassa un po'. Ingrassa? Ma mi prendi in giro? Beh, no, no, certo, no. Ma con un fisico come il suo come fa a parlare di ingrassare? Beh, effettivamente posso ringraziare TestMed che mi aiuta a tenermi in forma. Sì, perché l'estate è il momento per plasmare il tuo fisico, perché sia bello da vedere e soprattutto da mostrare. E allora affidati al numero uno al mondo per efficacia, TestMed, apparecchia ad alta tecnologia con un'efficacia dimostrata da test clinici e strumentali. TestMed stimola la tua bellezza e i risultati si vedono sin dalle prime applicazioni. E la massima espressione della tecnologia TestMed è il nuovo Max 830, l'elettrostimolatore professionale ad impulsi sequenziali. È un brevetto internazionale TestMed. Max 830 agisce direttamente sul ristagno dei liquidi, blocca gli inestetismi della cellulite e migliora l'elasticità cutanea. La microcircolazione pensata aumenta del 37% e più rassola incredibilmente il corpo. E pensa che lo dice addirittura il 78% delle donne. Ah, però, eh, ma quando mi siedo a tavola... Beh, però per un'alimentazione bilanciata ci pensa TestMed con Desideria, Desideria, la bilancia digitale che pesa gli alimenti e ne calcola i valori nutrizionali. Con Desideria potrete conoscere carboidrati, colesterolo, grassi, proteine di ciò che mangiate e calcolare i vostri peccati di gola. Desideria è un'ottima idea, anche per seguire una dieta. Desideria e Max 830 li trovate in farmacia. Grazie a tutti.